faremo sua danza, quindi abbiamo cambiato il ballo anche perché qui il corteggiamento, la forza espressiva, l'abilità, l'energia, anche la competizione tra i maschi del gruppo a modo di esercitarsi dentro il ballo, un ballo forte, guardato, l'energico, potete ballarlo anche con loro, gruppo folk Oleri di Ovoda. Grazie. 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 Grazie.